E allora vi ho pubblicato con questo documento che non ti sai, voi come sei, ci sono un'idea di manco di un'istruzione di un bordo, assolutamente, se non so, anche altri se non so, alcune di queste case verranno esropriate, anche in qualche modo esercite, se vuoi fare un buon giorno, ma quelle che vanno, che sono state applicate. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.